Nasce un comitato per la promozione, la tutela e la conoscenza dei beni comuni a Salerno e nella sua provincia. L'iniziativa promossa dal consigliere Dante Santoro è stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo Sant'Agostino a Salerno. Davanti ad una platea composta prevalentemente dagli alunni del Genovesi e del Da Vinci di Salerno, si è parlato della valorizzazione di un patrimonio troppo spesso dimenticato dai cittadini. Al tavolo dei relatori tra le altre la professoressa Vergine Azzambrano, Laura Oestra, docente all'Università di Toronto e le avvocate Clementina Tozzi e Carmen Piscitelli. Noi oggi creiamo un nuovo strumento al servizio della collettività per controllare e monitorare come vengono gestiti gli spazi pubblici per restituire informazioni e possibilità di frizione di tanti spazi che vengono gestiti a volte in maniera discutibile e quindi noi siamo qui per dire che c'è un nuovo strumento di apertura alla città. Dobbiamo fare in modo che tutti possano avere le stesse opportunità. Vediamo spazi dell'ente comune, spazi dell'ente provincia che spesso diventano proprietà di realtà associative che invece devono essere aperte alla città. Quindi pari diritti, andiamo anche nelle realtà virtuose, quindi a far conoscere chi valorizza il patrimonio e poi abbiamo gli studenti perché parleremo di beni comuni anche in senso più ampio con grandi professionalità, persone che nel mondo dell'università, delle professioni vogliono aprire la città all'idea che quello che è pubblico è di tutti perché spesso ciò che è pubblico sembra essere di nessuno o peggio ancora solo di qualcuno. Per chi ascolta che cosa può fare? C'è uno sportello? Come ci si avvicina? Noi col comitato beni comuni e saremo ovviamente anche presso l'ufficio Giovani Serenitani al comune e alla provincia con il gruppo provincia di tutti aperti a segnalazioni, a richiesta di informazioni perché noi vogliamo che le realtà virtuose del territorio possano avere fruizione degli spazi pubblici. Dobbiamo appassionare al patrimonio anche culturale che molte strutture hanno e non viene valorizzato. Purtroppo abbiamo un grande patrimonio culturale a Salerno che potrebbe essere fonte di economia, di lavoro e di opportunità. Oggi non è così, domani lo sarà anche grazie ad iniziative come questa. La mano della politica va lì dove c'è la speculazione facile, va lì dove c'è la ricchezza per pochi. Valorizzare il patrimonio pubblico sarebbe ricchezza per tanti, una ricchezza incontrollabile dalle mani dei pochi e quindi pare che questo non sia intenzione della politica di questi anni. Noi abbiamo un metodo diverso, lo dimostriamo oggi. Ricordiamo, ciò che è pubblico è di tutti, ricordate lo cittadino, non è di nessuno o di qualcuno. Quindi anche voi siete proprietari di quello che è il patrimonio bellissimo della città di Salerno e della nostra provincia. Riappropriamocene. Grazie. Grazie.